Parlando della tecnica del feeder pesante e quindi del heavy feeder o dello specialist, Maver presenta la serie di canne Tormaster disponibili dalle versioni 11 piedi, 12 piedi, 13 piedi e 14 piedi. La versione 13 piedi è addirittura disponibile in due casting differenti. Per le esigenze del feeder più pesante, dei grandi fiumi oppure per la cattura delle grosse carpe nei laghi, ci sono le versioni da 3,90 m e da 4,20 m con dei casting veramente importanti come la 125-175 grammi in 13 piedi oppure la 14 piedi con casting che arriva fino a 250 grammi. Il rapporto qualità prezzo è sicuramente invidiabile. Per una canna che ha una riserva di potenza sia in fase di lancio che in cattura recupero del pesce, veramente impressionante. Stiamo parlando della canna Tormaster che ha un manico in sughero combinato ad eva e un porta mulinello di altissima qualità anche qui mescolando il sughero stesso all'eva.